San Giovanni della Croce indica le conseguenze del vizio della gola, ubriachezze, ira, discordie, disattenzione per i poveri, malattie. Eppure dovete notare che Dio pone nel mangiare una certa soddisfazione al fine di garantire la funzione nutritiva necessaria per la conservazione dell'intuiduo. Quindi sentire e percepire il gusto del mangiare non c'è nulla di negativo, anzi è un fatto positivo. Purtroppo l'ingordigia, l'alcolismo sono ancora presenti. Al contrario ci troviamo a vivere l'atteggiamento negativo di non gustare lo stare insieme. Basta pensare alle famiglie patriarcali, la famiglia tutta intera, dai piccolini ai grandi agli anziani, si riunivano ed era, come dire, era mangiare ma discutere, parlare, gioire, raccontare. Ecco, lo stare insieme, cosa che oggi si è perso e quindi si corre sempre, si consumano spesso i pasti al service-service. Il tempo di mangiare non è stimato come tempo utile ma tempo per guadagnare perché di conseguenza si è perso il senso della tavola, dello stare insieme. Il peccato non è tanto quello della gola ma il non creare momenti intimi con la famiglia e con gli altri. È fondamentale lo stare insieme. Oggi non sono i moralisti a richiamare l'attenzione sui peccati della gola ma i medici, i dietologi, gli estetisti sono essi che minacciano colesterolo, triclicerite, cellulite eccetera. Sembra che anche la nostra cultura non considere più il peccato di gola. Di fatto si dice mi fa gola quella macchina, mi fa gola quella villetta, quell'orologio. Il Papa Giovanni Paolo II ci ricorda che due terzi della popolazione mondiale sono poveri e lottano per sopravvivere. Aggiunge anche il Vangelo dice date loro voi stessi da mangiare. Sta ad indicare che non bisogna domandare ad altri la soluzione del problema ma sentirsi tutti irresponsabili con le personali manifestazioni di solidarietà. Possedere senza cupidigia. La cultura moderna considera come un autentico valore il guadagno, la carriera, la ricerca del successo. Il potere e la ricchezza diventano modelli di vita, cadendo così nel materialismo pratico, insensibile alle necessità degli altri e allo stesso progetto di Dio. La condanna della ricchezza disumana la troviamo in tutta la Sagra Scrittura e ciò non deve meravigliare, giacché il desiderio disordinato rende ansioso e spinge a frode e a prepotenze. Inoltre sfrutta i poveri e li umilia. Padre Pio ai fili spirituali e in modo particolare a Maria Pai fa notare che lo sperpero delle ricchezze si scrive pensate figliola mia di quanta responsabilità ci sta aggravando dinanza a Dio con lo scempio dei beni e di fortuna. Il ricco non è ricco per sé, ma è l'economo della providenza a favore dei poveri.